E accennavo anche, la cosa importante, non è che siamo, no, sia un consenso, siamo tutti d'accordo, non è quello, ma direi, uso una parola sobria, la curiosità. Cioè ognuno, no, si può interrogare, io, la mia comunità, adesso su quale confine mi sono arrestato? Cioè qual è per me il prossimo passo? Perché voi sapete, non è che ci ha chiesto di fare mille passi o di salvare il mondo noi, no? Quella è ancora una proiezione di potere. Tante volte, nelle nostre angosce di impotenza, no, quando chiediamo, per esempio, non con voi, ma in altri contesti, no, alla fine è un discorso così, sì, sì, bello, professore, virgola, però. E il però ammazza tutto, perché, capite, destituisce di valore, no, i significati possibili che noi potremmo svolgere. Cioè è come se con questo però noi buttassimo via il cibo buono, non quello che dico io, però detto al mangelo. Noi abbiamo questi due fratelli, no, nel Vangelo, il giovane ricco e il fratello maggiore della parabola. Noi così ragioniamo. Siamo meritocratici, vogliamo tenerci quello che abbiamo conquistato, cioè lì noi possiamo rispecchiarci, no? E siamo gli uomini del però. Però questo è troppo, no, è utopistico, però questo è, però l'uomo ha la natura cattiva. Ecco, allora, come si fa a passare dal però al come? Che finché dico però, probabilmente c'è proprio un'angoscia che è tipica della mentalità di potere. Cioè io vorrei prima le garanzie di efficacia. Pietro con Gesù, no, voleva le garanzie di efficacia. Sennò tu ti scandalizzi, ti scandalizzi di te, ti scandalizzi del maestro, ti scandalizzi del Vangelo. Cioè, quanta gente, no, se è sfiorita, è delusa, spesso i più cinici, i più disincantati, sono quelli che a vent'anni c'erano un grande ideale. A 40, a 50 li trovi, dalle parti peggiori. Perché proprio la disillusione, gli anticlericali, no, per esempio, quelli che ci hanno colleghi, quelli da ragazzi hanno fatto il seminario. Allora, perché, no, attenzione a questa, non è che c'è chiesta l'efficacia a tutti i costi, la garanzia prima, c'è chiesta la fecondità, che è un'altra cosa. Cioè che noi facciamo la nostra parte, la nostra parte, nessuno la fa al posto nostro, la nostra parte, senza calcolare prima fin dove possiamo arrivare. Che voi lo sapete, quando fate un atto di bene, no, un atto coraggioso, non è che prima avete studiato, ci avete pensato, l'avete progettato, avete calcolato e poi l'avete fatto. Vi ci siete trovati, Paolo dice, è la radice che porta a te, anche tu arrivi, costruisci, organizzi. Cioè non vorrei che ci pensassimo come organizzatori del bene. Se noi vogliamo essere gli organizzatori del bene, non funziona, lo sappiamo già. Al massimo arriviamo a un altro delirio di potere. In realtà invece, qui si tratta proprio, la domanda è non solo come si fa, ma a chi sto diventando, qual è la mia scelta di fondo. E alla fine dipende da noi, se noi vogliamo essere persone così spente, magari anche dentro un'armatura religiosa, ma persone spente, disappassionate alla vita. Oppure persone così vive, appassionate alla vita, che è sempre vita comune, non esiste una vita privata, sempre vita comune. Siamo sempre in questo tessuto di relazione, che diventano per come vivono, io credo che molti di voi lo so, non sanno di che parlo. Diventano per come vivono una fonte di speranza per chi era disperato. Che alzando la testa vede qualcuno che vive con me, poi dice però, non è un deserto, posso sperare in qualcuno, posso avere fiducia in qualcuno. Quindi il mio spirito è un po' questo, cioè, allora la curiosità è di capire qual è il prossimo passo che io posso fare. E qui io faccio proprio una differenza, questo lo dico proprio in generale come filo trasversale a queste domande. Faccio una differenza tra sacrificio e rinuncia. Sacrificio è sempre un atto distruttivo, cioè vuol dire sacrificio di vittime, mortificazione interiore, di me stesso, di qualcun altro. Tant'è vero che a differenza di quello che noi abitualmente crediamo, i Vangeli non qualificano la croce come sacrificio. Lo sapete, la parola sacrificio ricorre due volte nei Vangeli, Matteo 9,7,12,3, per dire che Dio non lo vuole. E vuole la misericordia. Io dopo lo so che noi abbiamo una tradizione che ha invertito le parole sull'alba di Gesù. Noi è come se avessimo detto, sacrificio io voglio, non misericordia. Cardinale Casper, nel libro sulla misericordia, le prime 60 pagine le ha dovute dedicare a spiegare come mai la teologia cristiana ha fatto sparire la misericordia. E l'ha intesa come una patetica virtù femminile per come la guarda uno sguardo maschile. E noi crediamo più alla giustizia retributiva, il Dio dell'inferno, del purgatorio, quello sì che misericordia, se sei italiano, sembra che sia un colpo di spugna, un condono. Mi senti misericordia, c'è un condono. E no, è proprio un'altra visione. Allora, recuperare questa positività radicale, che non vuol dire ignorare il negativo, ignorare le difficoltà, ignorare la paura che tutto questo ci fa, no? Però almeno la curiosità di dire qual è il prossimo passo. Allora, non è che faccio un sacrificio, se no capite non avrebbero senso le beatitudini. E perché ci ha detto beati? Le beatitudini. Se l'invito era sacrificatevi, non c'è, in nessun versetto del Vangelo c'è scritto sacrificatevi. Sono altri termini, offerto in sacrificio per voi, lo sapete, è una manipolazione del testo, il testo dice offerto, non dice in sacrificio, eh? Non dice. Allora, rispetto a questo, la rinuncia è il contrario. La rinuncia significa, io mi sbarazzo di tutto quello, di tutti i lacci che mi impediscono di vivere la vita come dono. Cioè mi libero di quella sofferenza che mi costruisco con le mie mani quando mi attacco alla proprietà, al potere, alla paura, a quegli attaccamenti che ci impediscono di volere il bene, di vivere il bene. L'ho sperimentato con un detenuto, ho portato i ragazzi all'università, colloquio con i detenuti nel carcere di Bollate, e c'era un ragazzo albanese molto sveglio, che aveva fatto rapine in tutta Europa, era stato latitante, eccetera, io sono diventato libero in carcere. Che i ragazzi miei dicevano, non è la paura che ci impediscono la streva, non è la paura, non è la paura, sono gli attaccamenti. Cioè io ero attaccato a una vita, a un alto tenore di vita, a macchine, spese, allora dovevo fare le rapine, se ero attaccato a quella vita. Quando mi hanno arrestato sono diventato libero, perché ho perso quegli attaccamenti e ho cominciato a capire qual era il vero valore della vita. Allora capite, gli attaccamenti a quello che ci soffoca. Allora l'arte della rinuncia significa proprio liberati di tutti quei pesi che tu scambi per sicurezze, per gratificazioni, per cose importanti, che ti impediscono di vivere la vita con amore. Quindi la rinuncia è un atto di libertà, non è un sacrificio, non è una distruzione. Allora se noi ci mettiamo in questo spirito e lo facciamo non soltanto in modo personale, ma prima dicevo un po' la chiave, no? Aprendo la corrente dell'esistenza comunitaria. Cioè l'essere umano, dice la Bibbia, non è bene che sia solo, ma non solo nel senso del rapporto uomo-donna, ma proprio nel senso antropologico, cioè noi siamo fatti per la comunione, per la relazione, non possiamo edificare la vita sulla solitudine, sull'isolamento affettivo, economico, politico, etnico, cioè non è possibile. Allora se noi recuperiamo l'esistenza comunitaria dalla parrocchia, dalla famiglia, voi lo sapete che è tutto che possiamo vivere, o come separazione o come comunione. È un'alternativa netta. Allora se noi ripartiamo dal vivere secondo comunione, voi vedete che si sprigiona una fecondità che quando eravamo immersi nella separazione non riuscivamo a vedere. Non era l'efficacia che non c'era, eravamo noi che non c'eravamo. Mancavamo l'integrità, mancavamo di coraggio, mancavamo di una fonte che ci desse energia, mancavamo di aiuto reciproco. Capite? Prima di dire, eh non ce la facciamo, prima di dire non è possibile, verificate, ma gli elementi che consentono la fecondità ce li abbiamo? Cioè c'è stata questa operazione di liberazione che ci permette un cammino così. Allora in questo spirito, giusta la prima cosa, certo che io come vedete ho fatto un discorso superficiale, ma non scherzo, nel senso che a me interessava darvi una mappa di insieme, ma ogni punto andava approfondito. approfondito, ovviamente non lo potevo fare qui, probabilmente non ho neppure le competenze per farlo, lo potremmo fare insieme, invitando altri, sentite le altre relazioni, però mi interessava darvi il senso di una direzione, solo questo. Allora è chiaro che ci stanno tanti punti critici, allora per esempio accogliere ed essere aggrediti, accogliere ed essere incompresi, cioè ovviamente lo sapete, non abbiamo garanzie di buona riuscita, garanzie di subito, di piena reciprocità. Però ancora una volta, quello che noi possiamo fare è di fare la nostra parte, certo non in modo ingenuo, nessuno qui ha predicato l'ingenuità, però di farlo fino in fondo secondo quello che è il nostro modo di essere originale, cioè tu nell'operare il bene esprimi la tua umanità, non è che te lo inventi, non è una sola struttura il bene. Dice il filosofo Leminasse, nessuno è schiavo del bene, per aderire al bene significa esprimere la tua umanità. Allora quello, fallo fino in fondo, non lo fare a metà, non lo fare con le vie di fuga, con le riservi, cioè impara a farlo fino in fondo, con tutta la gradualità della crescita umana, ma con tutta la radicalità di una persona integra. Cioè c'è chiesta l'integrità, se volete si può usare la parola semplicità, che significa la stessa cosa, la semplicità, ciò che cresce integro. L'altra questione, cosa c'è dietro la tentazione del tradizionalismo? Ecco, nella parte, questa sia una grossa ingenuità, cioè lo scambiare il passato per la verità, in fondo bloccare la verità di Dio in un passato, nelle nostre formule, nella nostra immagine. Ma immaginare con tutto l'affetto, il rispetto, l'ammirazione, quelli che usavano la filosofia, la teologia, per dimostrare l'esistenza di Dio, no? E il Dio che si lascia dimostrare dalla tua argomentazione è un castone animato, se mi permetti, Dio è molto più grande di quello che tu riesci a dimostrare. Quindi erano indicatori, erano ingegnosi, erano geniali, ma erano indicatori simbolici. Non prove la lettera come le intenderebbe un positivista, cosicché se per caso stricchio la prova, non ci credo più. Capite? Uno va a trovare il razionalismo nel cuore della religione, buffissimo questo, eh? Un'impostazione razionalista in teologia. Non funziona. Allora, le formulazioni, abbiamo detto, dogmatiche o concettuali, teologiche, sono indicatori, quindi preziosi, importanti, vanno fatte bene. Deve ripartire, pensate alla grande teologia in questi due decenni del XXI secolo, non la trovate. Voi comparatele con qualsiasi due decenni del secolo scorso, non c'è confronto. Il Novecento è stato molto più creativo, molto più arioso, rispetto alla teologia attuale, che spesso è diventata iberspecialistica, per trovare un grande teologo, lo dovete cercare con l'andermino, perché c'è stato un minnino di ridimento, c'è stata una pulverizzazione del pensiero critico, una inibizione, sia nella società e per certi aspetti anche nella Chiesa, per cui rischiamo... Allora, è importante la teologia, è importante riprendere la ricerca, le formulazioni, però commisurandole alla verità vivente dell'amore di Dio. Non è che posso sostituire le formulazioni alla verità vivente. Quelli sono simbolo, non sono sostituti. L'altra cosa che fa tenerezza nel tradizionalismo è che questo è molto umano, in un certo senso tutti siamo tradizionalisti, capite? Anche progressisti, eh? Anche progressisti come me che criticano i tradizionalisti, mi autoetichetto banalmente, ironicamente, perché in fondo tutti scontiamo questa assenza di Dio. Cioè, alla fine, se Dio resta un'idea, noi siamo disperati. Perché per noi Dio deve poter diventare un'esperienza, una presenza, sia interiore che relazionale. Mai solo interiore, mai solo relazionale. Tutte e due le cose. E quando questo sperimentiamo che non accade, ci sentiamo distanti, perdiamo fiducia, quella è disperazione. Allora, in fondo, io credo inconsciamente il tradizionalismo è un disperato tentativo di rendere oggettivabile un Dio che in fondo si teme che sia assente. Perché si incrociano due paure. La paura di Dio, cioè di questo che sembra il padre di Mozart, no, che ti terrorizza, che c'ha l'inferno, che ti giudica di continuo. E come farai a sembrare adeguato di fronte al giudizio di Dio? È ridicolo, no? Certo che saremo inadeguati. O quindi il terrore del giudizio di Dio, di Dio, è il terrore che Dio non esista. Capite? Che cosa è più atroce? Che Dio esiste e non ci ama o che Dio non esiste. E siamo abbandonati nella vita. E la vita è un immenso reparto di malati terminali che aspettano di me. Capite? In fondo, al fondo del tradizionalismo c'è l'umanissima angoscia di morte e di assenza di una relazione con un amore vero, originario, fondante. Quindi in questo senso fa tenerezza, cioè si capisce, anche nostro. Però ecco, allora il cammino deve essere quello di imparare a rigenerare la tradizione che come si diceva è vita, non è ripetizione di formule o di usanze o di costumi insomma del passato. Anche perché, lo accenno solo, c'è futuro anche del passato. Ma Gesù di Nazareth, uno che è vissuto duemila anni fa, o come hanno detto tutti quelli che hanno avuto un'esperienza di fede, è contemporaneo. C'è un futuro in quello che riteniamo passato e quello che riteniamo attuale spesso è decrepito. Capite? Quello che è veramente carico di futuro già abitava le tradizioni precedenti, le generazioni precedenti. Quindi non si può misurare col tempo cronologico. Giusta l'osservazione che dobbiamo rileggere anche la profondità del tempo in un modo diverso insomma dall'idea del tempo lineare. Le altre questioni di Don Piero, giustamente la tradizione ridotta a fedeltà dottrinale e il formalismo dei gesti. Ecco, qui direi che il vero antidoto qual è? Tutto questo è l'effetto di quando noi comunque abbiamo stabilizzato un sistema di separazione. Cioè viviamo spezzando le relazioni vitali. Allora il vero antidoto qual è? Rigenerare la vita come vita comunitaria. Io credo che quello sia l'antidoto. Notatelo, accendo solo comunità non significa padroni in casa nostra, porte chiuse, stranieri via. La comunità prima di essere un luogo è l'evento della caduta delle barriere per cui io credevo che l'altro era totalmente altro da me. Questo riguarda sia il rapporto con Dio, il rapporto con gli altri, il rapporto con la natura. La comunità è un evento di caduta delle barriere. La Bibbia è piena di scene di questo tipo. Giuseppe che dice ai fratelli non temete sono vostro fratello che fa cadere la barriera della paura, dell'estraneità, del senso di Dio. Allora è importante avere luoghi, condividere, certo, ma non parti dal luogo, parti dall'apertura alla relazione. Allora quando noi realizziamo questo la tradizione è viva. Allora l'osservazione di Don Giorgio certo che a quel punto i giovani ce li trovi. È vero che molte volte i giovani sono distanti, però è anche vero che laddove il cristianesimo è vissuto i giovani ci stanno sempre, tu li trovi in prima fila. Allora non è questione che loro sono meno forti, meno tenaci di quelli di un tempo, è questione del tipo di messaggio della credibilità che incontrano banalmente degli esempi che loro trovano credibili nel loro cammino di crescita. Quindi se trovano questo io penso che scopriamo pure che la giovinezza, la gioventù non è solo un fatto cronologico ma è un fatto proprio di adessione al cuore della vita. Ve lo dico in modo retorico con una formula, non c'è tempo però invecchia solo chi pensa sempre a se stesso, non invecchia chi vive una vita transitiva. Io ero amico di Arturo Paoli che a 100 anni ancora diceva la messa e quando vedeva gli 80 anni davanti diceva spostate i vecchietti lui c'aveva 100 anni e lui c'aveva proprio questa freschezza di uno che fa una vita transitiva ti puoi invecchiare nel corpo ma in realtà nel modo di amare sei giovanissimo e lo sapete che non è una categoria semplicemente anagrafica cronologica quando un giovane cronologico altrimenti puoi essere vecchio pure a 20 anni prima l'accenno a volte certi preti giovani per darsi un'identità si suggeriscono che un preto anziano mai commetterebbe quella ingenuità è molto più comprensivo molto più loro hanno bisogno di un'identità stretta perché sennò sentono un vuoto allora se voi date un esempio una comunicazione di questo modo di esistere allora il giovane cronologico trova nutrimento le coscienze i sentimenti vanno nutriti e li posso nutrire alimentare dal loro respiro se ci stanno persone più adulte che fanno strada con loro anche nei casi di conflitto prima dicevano questo non vuol dire un animismo la nostra anche abitudine cattolica di nascondere i conflitti sotto il tappeto per carità dobbiamo far vedere che siamo tutti uniti il conflitto si è fatto nel rispetto anche il dialogo può essere un conflitto però è sano vuol dire esperienza del fare strada insieme io ho un'amica che era insomma una mamma cosiddetta progressista la figlia e una volta sta figlia l'ha combinata grossa la mamma gli ha dato uno schiaffo la figlia ha risposto ah allora mi vuoi bene cioè vuol dire spesso il giovane vuole che tu ci stai nel conflitto non è che vuole fare quello che vuole vuole una relazione che sente negata che sente che tu stai altrove allora fosse anche lo scontro ma il modo in cui lo fai diventa relazione strada comune allora se c'è questo voi vedete che i giovani nel Vangelo in questa prospettiva di vita ci credono non ci hanno difficoltà il problema vero è la credibilità della proposta che non può essere verbale non può essere il catechismo classico che in gran parte annoia i bambini ragazzi e poi voi vedete che in chiesa ci stanno fino alla cresima poi non li trovate più poi li trovate da vecchi perché pensano che devono batteggiare col Padre Eterno e tornano alla messa però a tutta la fase intermedia della vita non li trovate più invece se fanno un cammino di vita quelli sempre faranno questo percorso e sarà un percorso vivo quindi questo mi pare la conferma della serietà di quella chiave comunitaria importante l'osservazione sul rifiuto della complessità è chiarissimo e quindi qui anche la capacità anche nelle nostre comunità di sviluppare il pensiero critico la riflessione comune è il confronto con la parola notate la parola voi lo sapete meglio di me non aggiunge niente alla realtà ti riporta la realtà ti apre gli occhi ti riporta alla realtà tua alla realtà degli altri toglie le illusioni e apre una speranza autentica se tu in confronto con la parola lo salti se i cattolici scusate la banalità non conoscono il Vangelo non ci dialogano sopra così come i cittadini italiani non conoscono la costituzione capite di che parliamo cioè non è possibile vivere il cristianesimo gli serve proprio questo elemento concreto che si è vissuto insieme la riflessione sulla diversità la proviamo completamente è giusto però la diversità appunto trova un terreno di dialogo quando impariamo a vedere un orizzonte comune cioè teniamo insieme la differenza e la condivisione mai solo l'identità esclusiva mai solo la differenza che è un altro nome dell'identità ma un orizzonte comune cioè il fare strada insieme le cose che diceva Don Giorgio un minimo le abbiamo riprese Don Silvano perché tanta ostinazione contro le relazioni ecco direi qui i fattori sono tantissimi direi una delle cause ma ne cito una sola il fatto che nel nostro paese l'idea della convivenza della cultura nel senso nobile della democrazia da noi è una cosa giovane poco praticata noi abbiamo tradizioni culturali di altro tipo e ancora scambiamo la democrazia per una procedura elettorale e dal novecento oggi sappiamo che non c'è dittatore che non usi le procedure elettorale voi lo sapete i dittatori prendono la maggioranza i popoli votano chi gli fa del male corrono a votare i dittatori in Turchia negli Stati Uniti in Russia in Ungheria abbiamo detto dell'Italia non diciamo niente però nel novecento era così oggi ancora così la democrazia invece è all'ordinamento della vita comune dove il criterio della dignità umana di ciascuno e di tutti al primo posto e tutti i sistemi organizzativi le istituzioni devono essere di servizio la politica l'economia l'edocrazia allora c'è democrazia è una forma di vita non è una procedura allora qui la Chiesa noi cristiani potremmo dare un contributo insomma anziché così restare un po' in bilico l'ultima cosa se questo circolo vizioso tra ideali e mentalità della gente ecco direi che qui i punti di forza io li cito sono due secondo me in fondo la domanda diceva da dove ripartiamo quali sono gli elementi di speranza primo la grande speranza se mi dite nel mio piccolo in chi io spero ovviamente d'accordo nel Dio Evangelico bene però concretamente nel quotidiano nel fatto che noi viviamo di relazione quindi prima o poi la relazione ci spiazza ci chiede di aprirci cioè ci chiede di ritrovare l'ascolto di trovare la vista per riconoscere gli altri di ritrovare le mani per rispondere ai problemi cioè noi non possiamo alienarci completamente perché la relazione è la nostra vita quindi ne possiamo pervertire ne possiamo maltrattare ne possiamo spezzare però prima o poi quello che dice il Papa nel Laudato Si numero 205 quando dice in fondo l'umanità così capace di degradarsi eppure ha questa capacità di riscatto per cui può riaffermare la sua dignità di origine divina cosa rileggete quel numero della Laudato Si vi dice che l'umano è più profondo del male che noi mettiamo in campo l'umano è più profondo e storicamente mi pare che nonostante tutto questo sia vero l'altro elemento diciamo di speranza è che il male punta sempre sull'astrazione astrazione significa sradicare spezzare di una cosa che ha dieci aspetti te ne fa vedere uno solo cioè una forma di accecamento l'astrazione e invece il concreto cioè il corpo le persone i sentimenti i talenti cioè il concreto il Vangelo è concreto non c'è niente di astratto allora il concreto prima o poi è irriducibile riemerge e non può essere vinto dall'astratto l'astratto per trionfare per esempio il denaro conta più delle persone questo è astratto questa è l'astrazione quello che è concreto passa per astratto quello che è astratto diventa concreto il denaro è il soggetto noi siamo l'oggetto e così via allora prima o poi questo equilibrio è talmente instabile talmente contro natura che prima o poi il concreto riprende le sue ragioni allora la cura della concretezza delle relazioni delle persone e chiudo se mi chiedete ma per accelerare per fare presto perché le contraddizioni del mondo ci chiedono di fare presto questa a me sembra la questione più grave che tu il bene per maturarlo e viverlo c'è bisogno di educazione di cura di testimonianza di coraggio di lentezza cioè il bene è lento il male è velocissimo il bene richiede la scelta personale il male si contagia manco d'accorgi il male è peggiore si fa in buona fede si fa in malafede ma la fede almeno un pochetto capisci che stai facendo del male se lo fai in buona fede non capisci più allora la contraddizione più grave è la velocità del male rispetto alla lentezza del bene parlando semplicemente allora se uno mi dice come possiamo fare più presto fare prima ecco la mia risposta sarà banale sarà semplificante però direi educare riprendere in mano il rapporto tra le generazioni motivare gli adulti l'adulto non so se lo puoi educare però lo puoi motivare i più piccoli li puoi educare ma educare non vuol dire indottrinare non vuol dire che devono imitare te educare vuol dire liberare liberare dalla paura liberare dall'ignoranza liberare dai sentimenti distruttivi aprire strade la cosa più concreta la cosa più veloce che noi possiamo fare rimettere mano ai processi educativi che non sono solo la famiglia o la scuola o l'università sono la parrocchia la diocesi il quartiere il reparto l'ospedale il posto di lavoro però agire in modo educativo che vuol dire portare alla luce la nostra umanità questo non è mai stato reso impossibile e quindi lo possiamo fare è la nostra responsabilità di fare se dovessi sintetizzare proprio nella sintesi estrema ma anche come qualche cosa che può accompagnarci durante questa settimana mi sentirei di dire così ecco abbiamo capito che la tradizione è questione di vita una vita accolta che deve essere trasmessa donata messa a servizio grazie a tutti grazie a tutti